Buonasera buona domenica buona domenica a tutti eccoci qua c'è un po' un riverbero di luce dietro di me ma vediamo come tanto mi vedete mi sentite volevo ovviamente anche stasera che è domenica aggiornarmi perché è stata una lunga giornata di lavoro sia sul fronte della sanità sia sul fronte del confronto con il governo che come sapete di qua a qualche ora potrebbe prendere un nuovo provvedimento un nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri come sapete quei dpcm che sono diventati ormai famosi con alcune misure per aiutare a contenere il diffondersi dell'epidemia covid che anche oggi è tornata a crescere in tutta italia sostanzialmente e la nostra regione non fa eccezione lo sapremo tra qualche minuto ieri come sapete abbiamo lavorato tutto il giorno anche questa mattina e poi ve ne darò conto rapidamente abbiamo lavorato tutta la mattina una lunghissima riunione dalle 10 di questa mattina terminata fin intorno alle 2 con i ministri boccia speranza azzolina bede micheli per tutti il quadro abbiamo proposto e vi dirò quali sono le proposte delle regioni fatte vedremo se questa volta l'altra volta francamente il governo diciamo così ne ha tenute conto davvero poche poche se questa volta come noi tutti immaginiamo invece le proposte delle regioni che poi sono anche le proposte dei comuni verranno in qualche modo accolte perché le riteniamo misure di buon senso tanto andiamo ora ai dati allora oggi cioè ieri pomeriggio e questa mattina sono stati fatti in regione liguria parlo di tamponi molecolari di tipo tradizionale quelli contabilizzati dal ministero della salute abbiamo chiesto anche al ministro speranza ovviamente di poter mettere nel conto anche i tamponi molecolari rapidi che ora sono diventati strumento di diagnostica a tutti gli effetti con l'ultimo decreto del presidente del consiglio e l'ultima ordinanza del ministro ancora non ci sono comunque 3.328 sono i tamponi tradizionali a cui dovete sempre raggiungere alcune centinaia di tamponi rapidi che facciamo ad esempio come screening nell'rsa come screening nei nostri pronti soccorsi come screening nei nostri centri mobili di di contrasto al virus come quello ad esempio della commende molti altri i positivi oggi regione liguria nell'intera regione liguria sono 370 in particolare sono 31 nella zona dell'imperiese sanremese cioè nell'asl 1 sono 41 nell'asl 2 come sapete nei giorni scorsi in quel territorio ci sono stati alcuni cluster specifici uno in particolare un rsa che ci ha dato diciamo molti positivi ma per fortuna non particolarmente violento dal punto di vista dei ricoveri in ospedale sono 212 un pochino meno i positivi sulla città di genova ma certamente fanno anche il conto che stiamo parlando di circa mille tamponi meno di quanto sia la nostra media settimanale quindi questo certamente incide direi che non abbiamo avuto una fiammata oggi siamo sostanzialmente se stiamo alle percentuali stazionari e sono solamente tre i contagiati nella quattro e sono 83 nella cinque dello spezzino nel spezzino vorrei fuggare le preoccupazioni di una ripresa del cluster oggi di questi 85 dobbiamo tenere conto di un ritardato arrivo dei risultati dei tamponi che sapete che la 5 in parte lì diciamo sviluppa in proprio in parte fino all'arrivo della nuova macchina che abbiamo ordinato ovvero entro la fine del mese ne manda ancora un certo numero al laboratorio centrale del san martino i dati in questo caso sono dati relativi ai tre giorni precedenti che arrivano oggi quindi depurati dei ritardati dati saremmo probabilmente intorno ad una cinquantina e quindi diciamo una crescita perché anche qua c'è indubitabilmente una crescita ma direi commisurata la crescita della regione più in generale in ospedale saliamo a 441 i ricoverati sono 39 in più di quelli di ieri oggi sono molti ricoverati in più ma tenete presente che dai nostri ospedali la domenica normalmente così come il sabato pomeriggio non è giorno di dimissioni quindi contiamo che domani verso le strutture a bassa terapia a bassa intensità di cura verso le proprie case perché evidentemente guariti o verso le proprie RSA molti di questi pazienti provengono da alcune RSA del genovese che sono stati ricoverati per evidente precauzione stiamo ovviamente attrezzando anche in quelle RSA delle aree buffer con medici per evitare appunto di spostare pazienti da un posto all'altro conto che domani l'incremento sia lievemente inferiore proprio legato alle dimissioni che evidentemente ci saranno come tutti i giorni feriali della settimana e rispetto ad alcune misure che stiamo prendendo in ogni caso come vedete le terapie intensive sono sostanzialmente stabili come quelle di ieri e questo conferma un quadro della malattia che come abbiamo più volte detto è un po' diverso da quello del picco pandemico della primavera appena passata ovvero tante persone con sintomi più lievi meno terapie intensive e fortunatamente molti molti meno morti oggi sono comunque tre ci spiace ovviamente di dare sempre questa brutta notizia sono tre persone un uomo di 88 anni una donna di 81 e un'altra signora di 92 anni tutti deceduti presso il nostro ospedale san martino e siamo vicini ovviamente al dolore delle famiglie per tutto questo però direi che il quadro è quello che vi ho sintetizzato di una circolazione importante nella nostra regione a differenza di altre regioni siamo partiti alti e stiamo crescendo meno segno che i nostri uffici di prevenzione con gigantesco sforzo stanno contenendo la malattia segno anche di questo sono abbastanza orgoglioso credo che le misure che abbiamo preso a spezia prima a genova poi anche in anticipo rispetto a quelle prese dal governo mercoledì scorso evidentemente ci stanno consentendo di contenere un po' lo sbalzo del virus e questo è molto molto importante insieme ai laboratori mobili insieme a molte altre cose su cui siamo arrivati in anticipo oggi anche ovviamente il coinvolgimento dei medici di famiglia nei tamponi rapidi ai pazienti e dei pediatri per quanto riguarda ovviamente l'elemento della scuola tutto questo meccanismo che regione liguria ha messo in fretta in campo credo stia contenendo un po' il virus dopodiché i nostri ospedali sono passati alla fase 3 evidentemente lo avrete letto diffusamente sui giornali anche di stamani san martino aumentati posti letto in questa settimana apriranno altri posti letto anche l'ospedale galliera e l'ospedale e l'ospedale di villascassi di asl 3 mentre nelle altre province sostanzialmente non ci sono incrementi di posti letto spezia stabile o perde qualche cosa in termini di pazienti le altre province hanno una crescita molto moderata per cui non abbiamo particolari esigenze di posti letto questo per tranquillizzare tutti sia terapie intensive che come sapete possono arrivare a numeri superiori alle 200 unità sia i posti letto di ospedale normale in questo momento non sono in carenze ancora gli ospedali non sono stati costretti diciamo a richiamare personale da altri reparti chiudendo parte della loro elezione medica saremo certamente costretti a rallentare questo indubitabilmente sì nelle prossime nelle prossime ore per contenere l'urto sui nostri ospedali ci auguriamo che poi le misure anche prese dal governo mercoledì scorso e quelle ulteriori che potrebbero essere prese nelle prossime ore ci consentano ovviamente di rallentare anche la pressione sui nostri ospedali bene la riunione con il governo le regioni hanno chiesto ovviamente molte cose la prima di metodo è che le misure siano proporzionate ovviamente alla alla pandemia che si sta tornando a crescere ma anche a un paese economicamente estremato e in specie alcune categorie che da nuove chiusure brutali rischierebbero di non risollevarci in assoluto più quindi abbiamo chiesto di mantenere gli orari dei negozi dei ristoranti e dei bar quelli che sono già stabiliti nel vecchio dpcm di mercoledì scorso quindi le 24 e quindi il blocco del consumo da sport se non a tavolino nelle prime ore della serata abbiamo chiesto di sullo sport di intervenire se c'è bisogno e il comitato tecnico scientifico della salute a livello di governo lo ritiene opportuno sull'e sport anche direttantistici di contatto ma di evitare la chiusura delle palestre anche di evitare le fughe di notizie che tutte le volte vengono in qualche modo anticipate che rischiano ovviamente di danneggiare anche prima della chiusura tutto questo abbiamo ovviamente ha consentito e in qualche modo discusso sulla possibilità di limitare le manifestazioni al reperto, le fiere, questo genere di iniziative di assembramento che in questo momento non ci sembrano particolarmente opportune sono forse la cosa meno dolorosa a cui potremmo evidentemente rinunciare poi alcune misure strutturali sulla scuola siamo tornati a chiedere, devo dire con qualche attrito con il ministro Azzolina che ancora continua a dire che occorre negoziare a tavoli regionali con le direzioni scolastiche, devo dire comune regioni con molta decisione hanno chiesto al ministro di stabilire che un pezzo di didattica possa essere un pezzo di didattica a distanza, la famosa DAD e che questa debba essere in qualche modo ordinata, indicata agli istituti già nelle prossime ore con un'apposita norma di legge che preveda la rotazione degli studenti degli anni più grandi, noi parliamo degli studenti dell'ultimo, del biennio, cioè degli ultimi due anni degli istituti secondari superiori e quindi quei ragazzi che vanno a scuola da soli, stanno a casa da soli, si muovono da soli, hanno familiarità evidentemente con i mezzi di comunicazione della moderna tecnologia e poi che non lo facciano sempre, ovviamente con una rotazione che consenta di fare una settimana in scuola e una settimana a casa oppure due giorni a scuola e tre giorni a casa a rotazione con le classi in modo questo di alleggerire i mezzi pubblici perché i mezzi pubblici sulla città anche a bocca del MIT, cioè dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato confermato che per il momento, per ragione molto banale, che non si riescono a comprare in fretta gli autobus e in questo momento non ci sono fondi sufficienti per farlo, ma anche se ci fossero, bisogna essere sinceri, non riusciremo nelle prossime ore ad avere nuovi autobus. L'unico modo per ridurre l'affollamento, quell'affollamento previsto comunque dal Comitato Tecnico Scientifico Nazionale che ha dato le misure e la massima capienza di ogni mezzo di trasporto, per aumentare lo spazio sui mezzi l'unico modo è scaglionare le uscite di casa, per questo abbiamo chiesto al governo di regolamentare non solo la didattica a distanza per i più grandi, ma anche di intraprendere un dialogo col mondo dell'impresa rapidamente per dare delle regole per spalmare davvero gli ingressi al lavoro sia dei dipendenti pubblici sia dei dipendenti privati, perché è evidente, lo abbiamo fatto un pochino alla fine del lockdown, a giugno, a luglio, quando abbiamo ricominciato a lavorare, poi piano piano tutto questo si è appiattito e ormai siamo tornati agli orari normali, tutti escono di casa e entrano al lavoro tra le 8 e le 9 di mattina, massimo le 9 e mezza. Noi riteniamo che se tutto questo venisse spalmato di più e si consentisse, si chiedesse e anche in qualche modo si incentivasse, si spingesse perché gli orari vengano differenziati molto di più nella scuola, nelle fabbriche e negli uffici, probabilmente l'affollamento sui mezzi pubblici ci sarebbe di meno. Lo dico, molti mi chiedono perché non usate i pullman turistici fermi, ne stiamo già usando in tutta Italia 1.680. Quei turni, ora forse qualcuno ancora aumenteremo, in Liguria lo stiamo già facendo, abbiamo già fatto abbonamenti sia con i privati sia stiamo utilizzando gli autobus di tipo Gran Turismo in dotazione alle nostre aziende del trasporto pubblico locale. Quegli autobus non vanno bene per le tratte urbane, hanno meno porte degli autobus normali, non si può viaggiare in piedi, ci si deve sedere, non hanno l'omologazione per viaggiare in piedi, ogni volta che si fermano ne avrete presi, qualche volta si abbassano per comodità, hanno i gradini per entrare, hanno una porta che si apre lentamente e si chiude lentamente, hanno una struttura per cui nella linea urbana sarebbero talmente lenti e porterebbero talmente tante poche persone da essere sostanzialmente inutili. Ci sono venuti utili invece per i trasporti extraurbani dove ci sono delle situazioni di lungo tragitto e lì li stiamo già usando, continueremo a farlo, incrementeremo ma non risolverà il problema. L'unico modo di risolvere il problema oggi è quello di scaglionare gli ingressi e quindi consentire alle persone, Toti esce di casa alle 8, Rossi esce di casa alle 8 e mezzo, 9, un altro esce di casa alle 10 e poi Toti tornerà a casa prima, Rossi un pochino dopo, eccetera, lo capite benissimo senza che mi dilungo. Questo abbiamo chiesto, devo dire, il ministro che ha sembrato più rigido su tutto questo è stato il ministro Azzolina che continua a rivendicare la necessità di lasciare ai singoli istituti l'autonomia scolastica, ben venga l'autonomia scolastica ma se ora ci rimettiamo intorno a un tavolo a discutere, a rinunirci, a ricominciare da capo come se non fossero passati mesi, francamente mi sembra uno spreco di energie e dei tempi non compatibili con le misure che dobbiamo prendere, quindi sarebbe opportuno che il governo desse un'indicazione visto che la scuola e gli orari scolastici dipendono da lui, adesso è un segnale netto, se no vedremo come regione che cosa fare se non lo farà. Poi, sempre dal punto di vista strutturale, abbiamo chiesto e ne sono orgoglioso che i medici di famiglia vengano coinvolti nel fare i tamponi ai loro pazienti, cosa che in Liguria già avviene, come sapete abbiamo firmato un accordo con i medici di medicina generale già la settimana scorsa che comincerà questo lunedì, domani a funzionare e di questo sono particolarmente lieto perché è stata una delle cose in cui siamo arrivati prima di tutti gli altri, così come il ministro Speranza, devo dire, ha usato parole cortesi per lodare il modello Liguria, ovvero tenere delle misure molto ponderate, moderate e proporzionali in tutta Italia, uguali per tutti e poi intervenire come abbiamo fatto noi senza perdere neanche un'ora nel centro storico di Genova, in altri quartieri di Genova, nella città di Spezia prima ancora, nella provincia di Spezia, cioè intervenire in modo mirato sui luoghi in cui il contagio si sviluppa di più, in quei quartieri dove c'è grande affollamento, intorno ai centri di incontro dove si svolge la vita anche di comunità che spesso, come dire, vivono con loro abitudini, i loro modelli di vita e quindi si trasmettono tra loro il virus. Anche oggi il numero degli stranieri tra i contagiati è molto molto elevato, questo perché molto spesso hanno famiglie più numerose di quelle italiane, vivono in case più piccole, vivono in più persone nella stessa casa, hanno abitudini di vita che li portano a frequentare i stessi locali e quindi il virus li gira, così come questo su proposta del Veneto, devo dire, abbiamo chiesto di accelerare molto in fretta sulla possibilità di usare anche le farmacie con i tamponi salivari per chi vuole ovviamente farlo. Questa direi che è la giornata, che non finisce qua perché sono le 8-20 se non vado errato in questo momento, ci aspettiamo che qua pochi minuti di avere notizie dal governo sul DPCM e poi immaginiamo che ce lo illustrerà, immaginiamo che entrerà in vigore e il Presidente del Consiglio lo illustrerà agli italiani, mi auguro come ho detto prima che questa volta il parere degli enti locali, regioni, comuni e province che devo dire hanno parlato con una voce sola, venga tenuto in debita considerazione, lo sapremo di qua, non so, un'ora, due ore, vediamo come sarà andato il pomeriggio di lavoro dei tecnici, ovviamente noi ci risentiremo per tutti i commenti del caso, per le misure che poi Regione Liguria prenderà coerentemente a quelle prese dal governo anche domani. Quindi io per ora vi saluto, vi auguro buona cena con le vostre famiglie, con i vostri amici, con i vostri fidanzati, fidanzate, teniamo duro, ce la faremo senza dubbio, non dobbiamo farci prendere dalla paura, dobbiamo stare attenti, usate la mascherina, state distanziati, seguite anche quelle che non sono norme rigorose di legge, seguite tutte le abitudini positive che potete seguire perché non c'è bisogno sempre di farsi inseguire dal vigile urbano, dal poliziotto di turno, questa è una battaglia che si vive anche, si vince anche culturalmente, anche forzando ciascuno di noi a comportarsi bene e talvolta si scopre che comportandosi bene non vuol dire che ci si possa divertire di meno, che si possano vedere meno amici, che non si possa lavorare, che anzi non comportarsi bene potrebbe costringerci a rinunciare a tutto questo ancora una volta. Invece comportandoci bene, secondo me, riusciamo a vincere questo maledetto virus e a farlo senza bisogno di dolorose scelte da parte di tutti noi. Buona domenica sera a tutti.